C'è una parte dell'imprenditoria presente nel nostro paese che sembra non conoscere la crisi. Si tratta di quelle aziende guidate da stranieri che tra il 2012 e il 2013 sono aumentate del 3,1%, arrivando a oltre 708.000 imprese. Quelle condotte da cinesi hanno addirittura registrato un vero e boom nel periodo preso in esame sono aumentate del 6,1%, superando di poco la soglia delle 66.000 unità. E' quanto emerge da un'analisi diffusa dalla CGA di Mestre. Niente a che vedere, sottolinea, con lo sconfortante risultato conseguito dalle imprese italiane, che purtroppo sono diminuite dell'1,6%. Degli oltre 708.000 imprenditori stranieri presenti nel nostro paese, il Marocco è il paese di provenienza che ne conta il maggior numero, ben 72.000. Segue la Romania e poi appunto la Cina.